Siamo in atterraggio. Siamo in atterraggio d'emergenza, dovremmo atterrare penso in 10 minuti, è una cosa salve gente, qui è My Perspective, quello che stiamo vedendo qui è l'atterraggio d'emergenza del volo della Cathay Pacific da Hong Kong a Los Angeles. Era il 30 giugno e Cathay Pacific ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza su un'isola delle Aleutine in una base militare. Questo volo è molto simile ad un altro dove si dava alla luce una creatura su un aereo, la tematica è la stessa. Ma andiamo a vedere in profondità questo per capire se alcune persone possono poi tornare qui e dire se era così o non così. Il punto è che il tragitto più veloce è il più diritto, è un volo diretto da Hong Kong a Los Angeles. Qui si vede nella rotta verde. L'aereo in rosso, giusto? Fa un giro attorno, non ha la stessa distanza. Ora la domanda è per quale motivo questi aerei volano in quel modo sulla terra a palla? Perché la via più breve dovrebbe essere un volo diretto da Hong Kong a Los Angeles. E se diamo un'occhiata ad alcuni dei voli più lunghi non stop nel mondo, si vedono che tutti passano sopra, che vanno dalla costa ovest o dalla costa est. Però succede che c'è un problema fra il tempo e la distanza. Vediamo per prima il tempo. Se fanno questa rotta, facciamo un esempio. Abbiamo un aereo. L'aereo semplicemente vola dalle 6 del mattino alle 6 del mattino dalla parte opposta. E nel nostro caso abbiamo il giorno 1. E l'aereo va verso la sua destinazione del giorno 2. Mentre la sorgente della luce si sposta. L'aereo decolla. Decolla alle 6 ora locale del mattino. L'ora di destinazione di adesso sono le 9 e stiamo andando verso le 10. Abbiamo davanti il giorno. E quando arriviamo alle ore 12 stiamo andando verso il giorno 2. Adesso è l'una del mattino e la nostra destinazione in questo momento sono le 2. Inoltre in questo momento il sole sta tramontando e stiamo volando verso la nostra destinazione. Sempre nel giorno 2. Ma adesso diciamo che l'aereo deve fare un atterraggio di emergenza. Che ore potrebbero essere quando fa l'atterraggio di emergenza? Che ora locale sarà? Le 8? Le 8 e mezza? No, nessun problema? Nessun accenno? No, è abbastanza semplice. Diciamo che l'aereo non deve fare alcun atterraggio di emergenza ma che continua a volare. Il tempo del volo prosegue ottimamente durante le 9. Abbiamo passato le 9 ed adesso sono le 12, mezzanotte. E stiamo andando verso le 3. E continuiamo verso il nostro atterraggio che è previsto alle 6 del mattino. Perciò qui nessun problema. Ma andiamo a vedere in un modo differente, uno scenario diverso. Andiamo ad osservare il tempo. In questo che abbiamo visto l'aereo si muove. Il sole è fermo. L'aereo si muove con il disco. Volerà alla stessa velocità e allo stesso tempo per 24 ore. Tutto rimane uguale. L'unica differenza dell'aereo è, secondo quanto ci raccontano, che sta girando con la Terra insieme a noi. Andiamo a vederlo. Il giorno 1 l'aereo decolla alle 6 del mattino. Poi l'aereo continua il suo volo. L'orario di destinazione adesso sono le 9 della sera. Diventano le 12, mezzogiorno. E l'aereo, nella sua ora locale, in questo momento sono le 12. La sua destinazione, in questo periodo, passa dal giorno 2 al 3. È l'una del mattino mentre sta volando. La sua destinazione, osservando da dove stiamo arrivando, adesso va verso le 4, le 5 della notte. Riuscite a comprendere il problema adesso, osservate l'aereo. In questo momento l'aereo gira con la Terra. E se in questo momento dovessimo fare un atterraggio d'emergenza sopra il polo Nord, potremmo avere dei seri problemi. Facciamo che l'aereo adesso atterra. Che ora locale sarà quando l'aereo atterra? Le 10 del mattino? O le 10 e mezza del mattino? Ma che giorno? Cioè, non so se riuscite a capire cosa succede. Beh, potremmo avere qualche altro dettaglio di questo. Bene, diciamo che l'aereo non deve fare alcun atterraggio d'emergenza, ma che continua. Osservate l'aereo, osservate la direzione dell'aereo ed osservate l'ora. State sintonizzati adesso, eh. Perché mentre l'aereo vola verso la sua destinazione, il tempo per tutti rimane lo stesso. Voglio dire l'ora, l'orologio. Ma abbiamo visto che non era sempre lo stesso. Cercate di capire che se volate sopra il polo Nord si crea un problema. Osserviamo bene questo aereo da una parte della Terra all'altra parte della Terra. 12 ore di volo e la Terra continua a ruotare. Sull'aereo si prova l'esperienza di 6 ore di sole e 6 ore di notte. Sta volando attorno all'equatore. Questo l'avete già visto. Sta volando attorno all'equatore. Vola al centro della Terra. Ora, un aereo vola da Nord a Sud. Ha un angolo, ha un'angolatura differente. Ma la sua velocità, la sua velocità di rotazione sarà completamente differente. Perché avremo differenti velocità. In altre parole, gli orari saranno diversi per i due aerei. Troveranno differenti zone di orarie. Perché ruotano con la Terra. Gli aerei viaggiano su angolazioni differenti. In parole povere, ogni tragitto aereo si trova con orari diversi. In base alla posizione e dalla velocità della Terra a palla. Questo non accade sempre. I piloti e gli aerei non trovano questo fenomeno. Un altro problema sono le distanze. Potete vedere che le distanze su un piatto piano non sono uguali a quelle della Terra a palla. Facciamo girare la Terra a palla con un altro aereo che ruota insieme alla Terra. In questo momento si verificano problemi di distanza. Si hanno problemi di tempo e problemi di velocità. Questi problemi non vengono presi in considerazione nella vita reale. Orari. Orari differenti. Differenti velocità. Distanze. Quindi voi pensate che nel mondo motivato dal denaro in cui viviamo, gli aeroplani percorrono semplicemente la via più breve? Un aereo vola verso il polo nord. Vola nella direzione est, verso est. E un altro aeroplano vola con una differente angolazione ed avranno differenti problemi di orari. Dovreste calcolare ogni rotta ed ogni orario insieme alla velocità dell'aereo in relazione al tempo e dalla distanza. Fate semplicemente questo. E un altro fattore. Guardate la distanza. Questo aereo vola in un percorso e questo percorso è il centro della Terra. Al centro, eh? Ora, se cambiamo il percorso di volo, faccio in modo di variare un poco verso il basso. Non è un problema perché sto volando al centro della Terra, alla stessa distanza, ma non cambia nulla. La sola cosa che cambia è la velocità dell'aereo e dell'orario. L'orario che l'aereo incontra. Facciamo che l'aereo vola sopra la palla della Terra e il cerchio sarà più piccolo rispetto ad un aereo che vola sopra l'equatore e l'angolazione, l'angolo attorno alla Terra tonda sarà diverso. Velocità differente, orario differente, distanze differenti. Non si può sfuggire a questo. Ma non ci rendiamo conto di questo sulla Terra. Gli aerei non hanno questi risultati. Quindi la distanza minore è la linea più dritta, anche su una palla. E se piego questo su una palla, il percorso più lungo è quello sopra, è il percorso più lungo. Capite? Perciò diciamo che se l'aereo vola da Hong Kong a Los Angeles, nella rotta aerea, prendono la via più lunga. Per quale motivo questo aereo fa questa rotta? Perché fanno questa rotta che richiede più tempo? La risposta è semplice. Questa rotta è quella più diritta. La Terra è piatta. Su questa mappa di Terra piatta, si vede la rotta che l'aereo deve fare. Pertanto, nel percorso fra Hong Kong e Los Angeles, hanno dovuto fare un atterraggio d'emergenza in Alaska, nelle isole Aleutine, sull'isola Shemia, se la mia memoria è corretta. Avete capito che la via più breve per ogni località e o per ogni aereo, facciamo che lasciate Hong Kong per la costa est o per la costa ovest dell'America, sono in linea retta. Entriamo nel dettaglio degli orari. Se osserviamo i voli più lunghi nel mondo, vedete che tutti passano per il nord e nessuno di loro ha mai avuto problemi sull'orario temporale. Pertanto, se un aereo vola ovunque in linea retta e lascia la località alle 2 ora locale, va nella sua direzione ed atterra alle 7 ora locale qualsiasi sia il caso, è perché l'aereo si muove ed il sole si muove. La Terra non si muove perché incontreremmo tutti questi problemi, quelli di cui abbiamo già parlato. quindi la velocità dell'aereo, il fatto dell'ora e del fattore della distanza, tutte queste tre cose ci fanno capire che l'aereo non incontra tutti questi fattori che si dovrebbero calcolare su una terra palla. È perché la Terra è piatta, è il sole che si muove. Adesso andiamo a vedere questo. Quando viaggiate in aereo, osservate fuori dal finestrino, osservate l'orizzonte, osservate le nuvole. Osservate se ogni tanto l'aereo si alza quando attraversa, va sopra le nuvole, in linea retta. Guardate, scordate quello che vi hanno raccontato, osservate quello che vedono i vostri occhi, in realtà, la realtà del tempo, della distanza e della velocità. Se osservate questo fuori dal finestrino e poi andate dal pilota, si vedranno le stesse cose, la deviazione di fronte a lui. Se osservate dal finestrino alla vostra sinistra, il tipo seduto di là a sinistra vedrà esattamente le stesse cose e questo vi dice che è piatta, non c'è alcuna curvatura. Più semplice di così, ma per molte persone questo fa male, è doloroso perché sarebbe uno sciocco contro il sistema. Osserviamo nuovamente questo filmato, il sole, il sole si allontana semplicemente dall'aereo. Vedete, se la Terra fosse una palla rotante, in questo momento l'aereo girerebbe via dal sole. Quello che dovrebbe succedere al sole è che dovrebbe muoversi in linea retta dall'alto del finestrino diritto verso l'orizzonte. Osservate per quanto tempo, per l'intero volo, il sole si muove verso l'orizzonte perché il sole è sopra le nuvole per tutto l'intero volo. Riuscite a capire? Adesso osservate il sole che si allontana e che semplicemente rimpicciolisce sempre di più, sempre più piccolo. In questo momento l'aereo scende lentamente ed il sole diventa sempre più piccolo. Osservate il sole che si allontana dall'aereo. È lampante come la luce del giorno. in questo momento il bagliore lascia il posto al cielo notturno e diventa sempre più piccolo. Osservate la terra in prospettiva. È piatta. Il sole si muove. L'aereo si muove e la terra è immobile. Ad esempio in questo video l'aereo vola sopra le nuvole piatte. È la prospettiva del pilota, giusto? Osserviamo l'aereo quando vira, quando il pilota vira, si abbassa sotto le nuvole che riflettono. Osservate la prospettiva della terra che è piatta. Se aveste una palla in fronte alla vostra faccia, una palla grande, se girate la testa alla vostra destra, che cosa dovrebbe succedere? L'alzarsi della palla dovrebbe essere di fronte a voi. Ma l'aereo vira a sinistra, poi a destra, si alza, resta sempre nella stessa posizione. E questo è perché la terra è piatta. Osservate la prospettiva. Vedete, la semplice verità è che questa pista di atterraggio è piatta ovunque. La stessa esperienza che si prova sulla pista è identica a quella delle nuvole, è uguale. Quello che dovete fare è fare qualche ricerca. Fate la ricerca su chi controlla i governi, su chi controlla il sistema educativo, su chi controlla i media. è sempre la stessa organizzazione. Roma comanda ancora il mondo. Meglio che può. I gesuiti controllano ancora il mondo. Possiedono i mezzi che hanno ovunque come l'ordine massonico mondiale. lo possono controllare col denaro, con le banche. Ed ora hanno anche nuove idee, un nuovo ordine che in qualche modo andrà a salvare il mondo, ma è tutta una menzogna. Si tratta di menzogna. Hanno sempre avuto il potere assoluto ed il controllo ad ogni costo. E le persone che comandano non hanno alcun significato per questa gente. Sono solo un mezzo per le loro entrate. Sono la loro forza di lavoro. Voi perdete il vostro tempo quando andate a votare. Perdete il vostro tempo nel credere alle loro monzogne. Tutto l'intero sistema è un meccanismo per controllare. È un meccanismo per tenervi schiavi sia mentalmente che una schiavitù fisica. le nuove buone sono che questo nuovo ordine non accadrà nuovamente per il motivo che Gesù disse arriverà il tempo di una strage così grande che Dio apparirà e non si salverà alcuna carne. E questo è quello che succederà. Sì, si arriverà alla fine ma il creatore fermerà questo e poi ci renderà liberi da queste persone malvagie. Saluti e grazie di aver guardato. saluti e grazie. Grazie a tutti.